La Ciamo adesso in questa lezione le due isole, la Britannia e l'Irlanda, lasciamo anche la cultura monastica e passiamo alla Gallia, al Regno Franco. Torniamo anche al VI secolo. In questo VI secolo il Regno Franco si manifestava come il più grande, il più importante dei regni germanici. Noi tutti conosciamo il famoso re Clodoveo che si pattezzò nell'anno 498, però anche sotto i suoi successori questo Regno Franco godeva di una grande espansione territoriale. Interessante che questa importanza non è dovuta alla sua cultura avanzata e neanche al suo eccellente governo. Al contrario, ma importante è il fatto che questo Regno Franco è molto esteso e conteneva varie regioni di culture e di tribù. Allora da una parte abbiamo tante popolazioni romane, vale a dire con una tradizione antica di cultura da una parte, ma anche di amministrazione. E dall'altra parte abbiamo germanici che entravano durante i secoli passati in contatto continuo con questa cultura antica. E poi abbiamo altre tribù germaniche senza nessun accesso a questa tradizione antica. Lo vediamo qui sulla mappa. da una parte si vede chiaramente la grande estensione di questo Regno Franco. Abbiamo diverse parti, Neustria, Austria, Aquitania, la Borgogna, Septimania, la Provence. Però dall'altra parte abbiamo anche l'Allemagna e Bavaria che facevano sempre di più parte di questo Regno. Anche Alemagna e Bavaria erano delle regioni con una scarsa presenza antica che invece spariva durante i secoli V e VI. E poi abbiamo al nord-est il popolo dei Turinghi. Questi Turinghi furono conquistati, invece loro non avevano nessun accesso, nessun incontro con la cultura mediterranea e antica. E così, per esempio, abbiamo in Gallia meridionale, al sud in Aquitania, nella Borgogna, abbiamo una presenza germanica di franchi di 2% di tutta la popolazione. Invece, tra la Loire e il Reno, il centro di questo Regno Franco, abbiamo una presenza franca germanica di 10%. E in questo conglomerato tra cultura romana e presenza germanica, si faceva il fondamento della cultura europea medievale. Interessante è che noi conosciamo il battesimo di Clodoveo nel 498 come il grande inizio dell'Europa cristiana, o diciamo meglio, dei regni germanici cristianizzati. E noi identifichiamo questo battesimo con una grande espansione della fede cattolica nei regni germanici. È soltanto interessante il fatto che durante tutto il VI secolo, cioè immediatamente dopo questo battesimo, non si osserva nessuna iniziativa missionaria per i popoli conquistati. Questo significa che Caglia stessa naturalmente era cristianizzata da decenni. Invece, non c'erano delle iniziative di cristianizzare l'Allemagna, la Turindia e la Bavaria. Invece, queste culture rimanevano nel paganesimo. E nello stesso tempo osserviamo anche una tendenza verso la divisione di diversi parti di questo regno. Come vediamo, Austrasia, Neustria, Aquitania, però anche Alemagna e Bavaria andavano sempre in una più grande indipendenza in questo VI e VII secolo. Abbiamo all'inizio del, alla fine del VI secolo, all'inizio del VII secolo, due re ancora molto forti, Clotario II e Dacoberto I. Loro svolgevano una politica di unità. Però dopo la morte di Dacoberto I nel 639, c'erano soltanto minorenni, come re Merovingi sul trono. Allora non osserviamo una politica continua caratterizzata durante il VII secolo. E nello stesso tempo, naturalmente, abbiamo tante tendenze verso un secessionismo in questo regno franco. Anche culturalmente, e questo è molto interessante da osservare, ci troviamo davanti a un grande impoverimento. La produzione letteraria sparì più o meno. e anche di questo secolo VII sono conservate soltanto poche fonti scritte. Il punto più basso, si può dire, è questo missale di Boppio scritto verso 700. È un latino senza cultura di sintesi. È molto difficile decifrare questo testo e anche capirlo. Riguardo al fatto che nello stesso tempo abbiamo la grande cultura monastica in Irlanda e anche in Inghilterra, è veramente lamentabile questa situazione di decadenza nel Regno Franco.